Il primo cittadino di Teramo, nonché presidente regionale dell'Associazione dei Comuni durante l'Assemblea Nazionale svoltasi a Bergamo del Lanci, ha lanciato l'appello affinché la ricostruzione post-sisma del centro Italia resti una priorità dell'agenda del governo Meloni. In particolare per il sindaco di Teramo bisogna come prima cosa riconfermare il commissario Giovanni Legnini, visto che il suo incarico è scadenza a fine anno. Con la nomina, che poi è quella che nel 2020 avevamo chiesto sia come sindaco di Teramo ma come presidente dell'Anci, ma tutta l'Anci, tutte le Anci regionali, avevano chiesto una semplificazione della filiera istituzionale e l'individuazione di una figura commissariale che assumesse anche la responsabilità appunto nell'interlocuzione con il governo di pretendere una semplificazione delle misure e di mettere in campo un cantiere di semplificazione che è quello che abbiamo visto in questi due anni, due anni che hanno determinato lo sblocco della ricostruzione privata con numeri importanti, imponenti, e una semplificazione importante che oggi ci consente di guardare alla ricostruzione pubblica ovviamente con fiducia e con una progettualità legata anche alle ordinanze speciali che sono state approvate e che hanno semplificato il percorso. Nello stesso avviso anche il coordinamento dei comitati civici per la ricostruzione post-sisma dell'Aquila e del centro Italia. Le 34 associazioni che ne fanno parte hanno sottolineato l'importante ruolo portato avanti da Giovanni Legnini nella lettera indirizzata al Ministero della Protezione Civile. Ma il presidente del lancio Abruzzo d'Alberto, oltre alla riconferma del commissario Legnini, chiede al governo di prorogare la sospensione dei mutui. Sia per quanto riguarda la parte privata, i privati, che gli enti locali, è fondamentale in questo momento, momento nel quale ovviamente anche gli effetti della pandemia prima e del caro bollette legato alla guerra poi mettono a repentaglio anche la tenuta dei bilanci. Quindi sarebbe paradossale non tenere in considerazione che queste due emergenze si aggiungono ad una situazione difficile che è quella legata appunto al sisma. Inoltre, notizie di oggi che la cabina di coordinamento Sisma 2016, presieduta dal commissario Giovanni Legnini, ha raggiunto l'intesa sul testo unico della ricostruzione privata, che riorganizza, semplifica ed innova le norme contenute in 61 ordinanze, che vengono contestualmente abrogate. Il nuovo testo sarà adottato formalmente e illustrato nei dettagli nei prossimi giorni, non appena ottenuto il via libera della Corte dei Conti, ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2023 insieme alla nuova piattaforma telematica per la gestione delle pratiche sisma. È la prima volta che in una ricostruzione post-sisma viene varato un testo unico della normativa, che rimarrà unico anche in futuro con l'integrazione diretta nel testo di eventuali successive modifiche.